Grazie. Dunque, bene, adesso che ho conquistato il microfono non lo cederò così facilmente per un po' di tempo. Cerco soltanto di avere davanti, perché un'oretta fa mi hanno detto che avevo un'oretta di tempo. Ma poi dice, passato il tempo, adesso abbiamo solo più mezz'ora e così via. Ma poiché siamo tutti in ritardo, posso essere in ritardo anch'io. Allora, dunque, la connessione tra Galileo, Galilei e internet mi è stata richiesta. Tutti sappiamo che non c'è nessuna connessione, ma faremo finta che invece ci sia e ci arrampicheremo sui vetri per cercare di trovarne una. Dunque, siamo a Pisa, naturalmente, e sappiamo che questa è la città di Galileo. Quindi io farei, se possibile, anzitutto un discorso leggermente più ampio. Cioè, tutti, credo, conoscano il nome di Galileo. Galileo, forse meno conoscono le cose che lui ha fatto. Quindi io cercherò di dare una breve panoramica di quello che Galileo ha fatto nella sua lunga vita e nella sua vasta produzione. E ci sono effettivamente, a parte gli scherzi, dei collegamenti con internet o perlomeno, come vedremo, con alcuni aspetti di internet. Ma questo non è così importante, o meglio, è importante in questo festival. L'importante è però capire che cosa ha fatto Galileo e per quale motivo è considerato il padre, sicuramente, della scienza italiana. E, altrettanto, sicuramente, uno dei due o tre padri della scienza in realtà moderna. Dunque, Galileo è nato qua, come tutti sanno, nel 1564 e se ne è andato nel 1592. Quindi c'è stato per un certo periodo di tempo. Agli inizi Galileo non era uno scienziato, per l'ovvio motivo, l'ho detto, è uno dei creatori della scienza. E quindi prima non c'era la scienza, non si poteva essere scienziato. Era un critico letterario. La cosa interessante è che ci sono poesie di Galileo. Ce n'è una molto interessante che a me è piaciuta così tanto, che l'ho usata per fare la dedica di questo libro che ho scritto su Galileo a mia madre, che si intitolava Contro il portare la toga. Galileo era un grande anti-accademico. Quindi voi anzitutto vi permetterete che con questo caldo io la toga o per l'aumento moderna me la tolgo, perché avete visto che una giacca ce l'ho, l'ho portata, ma è sufficiente, perché fa così caldo. Nel 1588, anche questo forse è poco noto, Galileo scrisse un'opera che non è molto letta, ma che meriterebbe di essere più letta. È un'opera letteraria, un'opera di critica letteraria. E' lo sguardo di uno scienziato sulla divina commedia di Dante. E' un tentativo di misurare l'inferno, di vedere, di trarre dai dati che Dante dà nel suo poema, le dimensioni dell'inferno. E tra l'altro la soluzione è estremamente bella da un punto di vista matematico, non so quanto Dante ne fosse a conoscenza. Però Galileo dimostrano che effettivamente se voi prendete l'inferno, l'inferno è un cono, un cono a sezione triangolare equilatera, che ha il vertice nell'ombelico di Lucifero, ma questo è secondario, ma nel centro della Terra. E se voi prendete un cono che ha il vertice al centro della Terra, e andate a vedere che cosa succede sul globo terrestre, vi accorgete che questo cono taglia il globo terrestre in un cerchio. E se voi andate sul mappamondo a vedere, tra l'altro bisogna dire non soltanto dove ha il centro, ma anche per esempio dare una direzione, l'asse di questo cono passa ovviamente per Gerusalemme, che era il punto centrale del discorso dantesco, perlomeno della storia a cui si riferisce Dante. Allora cosa succede se uno mette questo codo col vertice nel centro della Terra, con l'asse passante per Gerusalemme e va a vedere la sezione che questo cono fa sulla Terra, si accorge che passa vicino a Napoli, passa vicino a Cuma, all'antro della Sibilla cumana, Galileo deduce da questo fatto che quella era la selva oscura, che quella era l'entrata dell'inferno e così via. Quindi un'opera abbastanza strana che vi consiglio per l'appunto di leggere, perché è una visione completamente diversa di quella che si ottiene quando Dante viene dato in pasto a coloro che queste cose non le capiscono, cioè ai critici letterari. Si potrebbe fare anche la stessa cosa per il Paradiso, è stato fatto nel Novecento, la soluzione di qual è la struttura del Paradiso è molto più complicata, la dico soltanto come parola ma ne parleremo in un'altra occasione, è un'ipersfera, una sfera a quattro dimensioni, cioè l'analogo di quello che la sfera nello spazio a tre dimensioni è, ma in uno spazio a una dimensione in più. Vedete come Dante in realtà poi riveli, anche Dante non era proprio pisano in realtà, anzi mi dicono che Dante con Pisa non andasse molto d'accordo, ci sono versi che ancora risuonano al giorno d'oggi, però anche dietro Dante si potrebbero trovare dei contenuti diversi da quelli soliti. Io vorrei leggervi però, visto che parliamo di Galileo, questa sera leggeremo più parole, o meglio le leggerà per fortuna un attore, più parole dai suoi lavori, ma almeno qualcosa di quello che lui ha fatto nel periodo in cui era qui a Pisa, credo che sia doveroso. Ci sono due grandi esperimenti che vengono dalla leggenda attribuiti a Galileo nel suo periodo pisano. Uno, come tutti sapete, è quello dell'isocronia del pendolo, si dice che lui la scoprì tra il 1581 e il 1585. Io oggi ho fatto una cosa che non amo fare, che cerco di evitare di fare, sono entrato in una chiesa, però la chiesa era il Duomo di Pisa. Sono andato un momento a vedere quella famosa lampada di cui lui dice io ho ben mille volte posto cura alle vibrazioni delle lampade pendenti in alcune chiese da lunghissime corde, inavvertitamente mosse da alcuno, ma che io fossi per apprendere che quel mobile medesimo, peso a una corda di cento braccia di lunghezza, slontanato dal limo punto una volta a 90 gradi ed un'altra un grado solo e mezzo, tanto tempo spendesse in passare questo minimo quanto in passare quel massimo arco, certo non credo che l'avrei mai incontrato. E naturalmente Galileo parlava italiano dei suoi tempi, quindi bisogna non dico tradurlo, ma perlomeno parafrasarlo. Cioè l'idea è si va in chiesa e non si sta attenti a quello che succede all'altare, quello è una distrazione, si prende una lampada e la si sposta a 90 gradi e la si lascia cadere e poi si sposta invece soltanto di un grado e mezzo questa lampada e ci si accorge che il tempo che il pendolo impiega per fare l'arco da una parte all'altra è la cosiddetta isocronia del pendolo. Un'isocronia che in realtà non è così originale come in genere si crede era già stata scoperta addirittura dagli arabi secoli prima, ma questo non significa perché se uno scopre le cose e poi queste cose non entrano nel sapere comune rimangono per l'appunto lettera morta. Galileo invece con gli esperimenti sul pendolo portò ovviamente molto avanti queste cose. L'altra cosa che si fece che probabilmente non fece mai come voi sapete sono gli esperimenti dalla Torre di Pisa quindi oggi non sono salito sulla Torre di Pisa e non ho buttato niente giù sulla testa dei turisti anche se poi un po' la voglia viene naturalmente perché la vostra bella città invasa da eserciti poliglotti e naturalmente interessati poco a queste cose. Naturalmente il fatto che i corpi cadano tutti con la stessa accelerazione non è una cosa così facile da dimostrare anche se uno volesse fare l'esperimento veramente dalla Torre di Pisa ed è una cosa però che era già stata anticipata anche questa di parecchi secoli sentite questi versi che non sono ovviamente nel linguaggio originario sono una traduzione e che dicono a nessuna cosa da nessuna parte e in nessun momento può far resistenza il vuoto assoluto senza cedere in fretta come richiede la sua natura. Perciò tutto deve muoversi nel vuoto inerte con uguale impulso pur se i pesi non sono uguali. Questa è effettivamente l'enunciato di una delle grandi scoperte di Galileo ma è un enunciato molto precedente e sono versi tratti dal secondo libro del Reum Natura di Lucrezia. E i greci come qualcuno di voi forse sa erano andati molto avanti nella scoperta delle leggi in realtà del moto anche se noi continuiamo ad attribuire ai greci leggi che pensiamo essere in realtà sbagliate. Queste erano intuizioni anche quelle di Galileo come ho detto ammesso che abbia fatto gli esperimenti dalla torre di Pisa e probabilmente questi esperimenti non erano conclusivi. Il vero esperimento conclusivo è arrivato molto tempo dopo vi dico anche il giorno esatto il 2 agosto del 1971 se voi andate su internet e questo è un festival di internet quindi tutti avrete il collegamento adesso andrete a vedere in diretta se voi andate su internet su youtube trovate il filmato del comandante dell'Apollo 15 che si chiamava David Scott che fece questo esperimento prese una piuma di falco naturalmente il motivo del falco era che la sua missione e la sua navicella si chiamavano falcon per l'appunto prese una piuma di falco un martello li lasciò cadere e si vede effettivamente che la piuma di falco e il martello cadono nel vuoto attorno alla luna nello stesso tempo arrivano a terra nello stesso tempo e il comandante dice questo dà ragione a un signore di molto tempo fa di nome Galileo quindi nel 1971 finalmente si è visto l'esperimento prodotto tra l'altro se voi leggete l'intervista al comandante dell'Apollo 15 noterete o scoprirete che il comandante era molto preoccupato perché dice che l'avevano provato altre volte e non funzionava affatto perché basta ovviamente una minima qualcosa che va storto e le cose non funzionano ed erano in diretta televisiva quindi hanno sperato che effettivamente le cose andassero come dovevano andare dunque qual è il collegamento si diceva tra Galileo e internet il collegamento più evidente che si può trovare dal mio punto di vista è che internet funziona come voi sapete su un linguaggio binario non è importante che sia binario la signora mi fa vedere il tempo o no? ah no credevo che fosse un cartello che mi dice meno 10 minuti o meno 20 minuti che poi sono interi pure loro ma è di questo che sto parlando dicevo internet usa un linguaggio binario ma la cosa importante non è che si usi un alfabeto di due sole cifre alfabeto numerico di due sole cifre meno di quello si potrebbe anche fare si potrebbero scrivere i numeri in alfabeto unario sarebbero molto più lunghi una volta che si passa a due o più numeri come base cioè una base due o maggiore tutti i numeri si scrivono più o meno con la stessa lunghezza la differenza per quelli che sanno che cosa sto dicendo è semplicemente una costante mentre invece il passaggio dal lunario al binario o ternario o decimale eccetera è in una direzione logaritmica è nell'altra direzione esponenziale quindi c'è un grande vantaggio il motivo per cui si usano due è semplicemente quello è il minimo numero che permette di usare di scrivere i simboli in maniera efficiente ma la cosa veramente importante è che si usino numeri interi cioè quello che oggi chiamiamo la digitalizzazione rendere tutto numero intero è il motto di Pitagora tra l'altro voi ricordate che i pitagorici dicevano tutto è numero ma nel senso dei numeri che conoscevano loro quindi i numeri interi o i loro rapporti cioè i cosiddetti numeri razionali il motto di Pitagora naturalmente cadde subito in disuso perché i pitagorici scoprirono che invece non è vero che tutto è numero perché se voi prendete un quadrato e cercate di descrivere il rapporto fra la diagonale del quadrato e il lato del quadrato vi accorgete che quel rapporto non potete descriverlo attraverso numeri interi o loro o loro o frazioni e quello è quello che si chiama un numero irrazionale quindi il motto di Pitagora fu lasciato cadere ma al giorno d'oggi non naturalmente è diventato il motto dell'informatica tutto deve diventare numero intero e quello che non è numero intero si approssimano e lo si fanno lo stesso diventare via via in maniera più accurata dei numeri interi ma Galileo fu il primo in realtà a introdurre e questa credo che sia veramente stata la vera rivoluzione di Galileo non tanto trovare alcune leggi che bene o male erano già state intuite nel corso della storia appunto abbiamo detto gli greci i latini gli arabi e così via ma di introdurre un metodo nuovo il metodo scientifico e che cos'è questo metodo scientifico? beh è quello di lasciare perdere o perlomeno passare oltre alle spiegazioni che sono puramente qualitative e incominciare a fare delle spiegazioni che siano quantitative cioè incominciare a misurare e a scrivere delle leggi che permettano di ottenere delle misure dei numeri per l'appunto e quali numeri interi usava Galileo? beh se voi prendete per esempio gli esperimenti famosi sui piani inclinati ovviamente è difficile fare gli esperimenti quando non si hanno strumenti Galileo non aveva degli orologi per il motivo ovvio che per avere un orologio c'è bisogno di una tecnica basata su una scienza e la scienza stava nascendo con Galileo quindi come molti sapranno Galileo faceva le misure di tempo con il suo polso cioè sentendo il battito del proprio polso poi in anni successivi cominciò a diventare un pochettino più preciso e quindi aveva degli orologi ad acqua oggi li potremmo chiamare noi aveva dei vasi con dei beccucci da cui cadeva l'acqua e si poteva regolare la velocità di caduta dell'acqua in modo da andare a vedere quanta ne arrivava dentro un vaso che era posto sotto questi beccucci e a seconda dei livelli dei vasi poi dopo andare a fare le misure quindi potete immaginarvi che difficoltà c'era a trovare anche soltanto alcuni numeri che in qualche modo corrispondessero a queste cose il motivo per l'introduzione dei piani inclinati era proprio questo cercare di rallentare la caduta di un grave che altrimenti è troppo veloce ovviamente non si può misurare con il nostro polso o con l'acqua e cercare di farlo venire appunto a una velocità che fosse sufficientemente rallentata in modo da poter fare degli esperimenti Galileo suppone che la caduta dei gravi sia fatta in una condizione in cui l'accelerazione è costante non è nulla anche se fosse zero sarebbe ovviamente non costante ma è costante e non nulla di nuovo l'intuizione che l'accelerazione di gravità è un'accelerazione non nulla questa è un'intuizione che i greci di nuovo avevano avuto voi direte ma questi greci quante cose hanno fatto beh parecchie le hanno fatte se voi leggete i libri molto belli tra l'altro ma soprattutto la rivoluzione dimenticata di Lucio Russo vi accorgete che effettivamente noi siamo un po' troppo propensi a assegnare ai greci una visione intuitiva e un po' banale della scienza i greci sapevano un sacco di cose sulle maree e in particolare sapevano anche che c'era un'accelerazione di gravità non nulla come facevano a sapere beh perché erano persone pulite voi tutti credo che facciate la doccia la mattina e è vero che fare questi esperimenti la mattina perlomeno per le persone come me che non amano svegliarsi presto non è il momento giusto della giornata ma se voi guardate per esempio quando l'acqua cade cade dalla vostra doccia adesso dipende quale quanto principesche siano le vostre case se la doccia ce l'avete bassa si vede poco ma se voi guardate per esempio l'acqua che cade dai cornicioni delle case durante un temporale vi accorgete che la caduta dell'acqua non è fatta a cilindro cioè l'acqua cade ma per qualche motivo strano uno potrebbe immaginare si restringe invece di essere un cilindro l'acqua che cade è una specie di cono che diventa via via più piccolo mentre va giù e allora che cosa si deduce da questo poiché l'acqua che continua a uscire dal tetto per esempio o dal rubinetto dalla doccia eccetera è costante in situazioni normali se continua ad esserci una porzione costante e se la sezione si restringe questo vuol dire che la velocità sta aumentando perché la portata deve sempre essere la stessa allora il fatto di vedere che la sezione diminuisce è una prova molto evidente del fatto che la velocità dell'acqua aumenta e non è costante mentre cade allora c'è un'accelerazione se aumenta la velocità e Galileo suppone e questo però è una supposizione ovviamente la scienza procede in questo modo suppone che l'accelerazione sia costante non è nulla ma supponiamo che sia sempre la stessa allora se l'accelerazione è costante quali sono le leggi del moto oggi naturalmente si tratta di fare l'integrale di una costante non è che sia molto complicata la velocità è proporzionale al tempo e lo spazio percorso è proporzionale al tempo al quadrato diviso 2 e come si fa questo a dimostrare lui fa appunto gli esperimenti con i suoi famosi piani inclinati misura i tempi costanti con il suo polso e che cosa scopre scopre che quando un grave una pallina incomincia a cadere su un piano inclinato nella prima unità di tempo diciamo così tra due battiti di polso percorre una certa lunghezza nella seconda unità di tempo ne percorre tre volte quella lunghezza nella terza unità di tempo ne percorre cinque e poi sette e poi nove cioè scopre che le lunghezze aumentano semplicemente come i numeri dispari e non è facile pensare di ottenere qualche cosa semplicemente dalla successione dei numeri dispari però Galileo dice ma proviamo a pensare nel primo intervallo percorre una certa lunghezza nei primi due intervalli percorre una lunghezza più tre lunghezze cioè quattro lunghezze nei primi tre intervalli percorre una più tre più cinque ora cinque più tre più uno fa nove e poi nel quarto intervallo bisogna sommare a questo nove il prossimo numero dispari che è sette che quindi fa sedici ma allora ci accorgiamo che la progressione delle distanze percorse è uno quattro nove sedici venticinque effettivamente è il quadrato dei tempi che si usano nel percorrerli e questa è la dimostrazione pratica molto banale in un certo senso però geniale dall'altro senso di come Galileo deduce le leggi del moto e da questo tra l'altro deduce che allora se questa è la progressione che si trova negli spazi riferiti ai tempi allora l'accelerazione che non era nulla deve essere costante ecco questo è il vero come dire la vera innovazione che Galileo introduce nella scienza far entrare un qualche cosa di quantitativo che si può misurare sul quale si possono fare dei discorsi concreti e come vedete i numeri che Galileo usa sono per l'appunto numeri interi e i numeri interi sono esattamente quelli che oggi continuiamo ad usare nella descrizione del mondo fatta attraverso il computer e quindi fatta attraverso internet naturalmente la visione di Galileo che oggi è ridiventata moderna all'epoca non era o meglio subito dopo pochi decenni dopo in realtà non era poi così moderna perché Galileo da una parte usò questi numeri interi dall'altra parte fece quella dichiarazione di fede diciamo che voglio leggere perché in realtà è così bella e così ripetuta tante volte che vale sempre la pena di risentirla eccola qua questa è tratta siamo nel 1623 ormai Galileo è già ritornato è andato a Padova naturalmente tra un momento brevemente riassumerò quello che fece a Padova poi è tornato a Firenze questa volta nel 1610 e nel 1623 scrive uno dei suoi libri più terribili è un libro completamente sbagliato uno dice ma come il grande Galileo sì il saggiatore è un libro veramente da buttare nel cestino perché è una polemica contro un gesuita vi vuole dirlo il quale aveva ragione se è una polemica sulla natura delle comete e questo gesuita che cosa aveva in testa per Galileo ma un'idea balzana il gesuita ignorante come Galileo pensava che potesse essere questo padre Sarpino pensa che le comete siano dei corpi celesti esattamente come i pianeti che si muovono nell'universo eccetera e non capisce secondo Galileo che sono semplicemente dei fenomeni ottici sono come le aurore boreali sono semplicemente provocate dall'atmosfera e così via e naturalmente oggi sappiamo che Galileo aveva torto in realtà le comete sono veramente dei corpi celesti quindi tutto il libro che è una serie di improperi da Toscano e non sto a dire a voi che cosa significhi essere un Toscano e rivestire di improperi un contradditore che si pensa abbia torto effettivamente quel libro lì è completamente da non leggere infatti nessuno lo legge più oggi se non per una pagina perché in tutta questa serie di improperi che Galileo riversa sul gesuita padre Sarpi a un certo punto lui dice qualcuno forse stima che la filosofia sia un libro è una fantasia di un uomo come l'Iliade o l'Orlando Furioso qui ritorna naturalmente il Galileo critico letterario libri lì è dell'Orlando Furioso nei quali la meno importante cosa è quello che vi è scritto sia vero cioè nella letteratura non importa che quello che c'è scritto sia vero anzi in realtà quasi sempre non è tutto inventato e lui dice la cosa non sta così cioè la natura la filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi io dico l'universo lui chiama l'universo il grande libro che sta in fronte a noi aperto ma non si può intendere se prima non si impara intende la lingua e conoscere i caratteri nei quali è scritto egli il libro esso noi diremmo è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli cerchi e altre figure geometriche senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto questa è una dichiarazione programmatica Galileo nel saggiatore appunto in un libro tutto sbagliato però almeno questo lo fa giusto e dice la natura è come un libro se noi vogliamo leggere un libro per poterlo leggere dobbiamo prima di tutto capire la lingua in cui questo libro è scritto e prima ancora di capire la lingua dobbiamo capire l'alfabeto perché senza alfabeto senza la lingua non si va lontani qual è l'alfabeto qual è la lingua in cui è scritto il libro della natura Galileo dice la lingua e la matematica sull'alfabeto insomma si potrebbe discutere lui dice l'alfabeto sono triangoli quadrati cerchi e altre figure geometriche perché all'epoca quello era naturalmente la geometria che arrivava ovviamente dalla tradizione greca e euclide e così via era il linguaggio della matematica dell'epoca e quindi Galileo dice nella scienza noi dobbiamo usare la geometria ancora Newton chi di voi ha letto o ha sentito parlare dei principi di Newton saprà che tutto praticamente quasi tutti i principi a quest'opera che è l'analogo della Bibbia per la scienza contemporanea in realtà è scritta in un linguaggio che oggi noi praticamente non capiamo più perché noi non usiamo più i metodi geometrici usiamo grazie anche a Newton che li ha inventati in parte insieme a Leibniz e a tanti altri usiamo i metodi cosiddetti analitici usiamo i numeri reali quindi in questo Galileo è sorpassato non è più vero o perlomeno non lo è stato per tanto tempo dopo di lui che la geometria fosse il linguaggio della natura ma che o meglio l'alfabeto del linguaggio della natura ma che il linguaggio fosse la matematica questa è la fede diciamo così centrale che è rimasta invariata fino ai nostri giorni senza la matematica non si può fare della scienza e Galileo però aveva centrato il fatto che in realtà si possono usare anche i numeri interi e non è necessario usare soltanto i numeri reali bene brevemente allora vi racconto le varie tappe allora dicevo della vita di Galileo e poi eventualmente se ci sono domande se volete possiamo continuare a lungo io ho fatto per esempio a Sarzana una volta tre nottate di letture di Galileo quindi se volete questa sera è la prima potrei andare avanti tutto il festival venire a leggervi parte dei lavori di Galileo e sono veramente miniere dentro le quali si possono trovare pepite anche come in questo caso in miniere che ormai non sono chiuse e che non danno più molti altri risultati importanti allora dicevo Galileo è nato qui la prima parte della sua vita la fa a Pisa nel 1592 vince una cattedra anche allora gli scienziati facevano questa carriera vincevano la cattedra qual è la cattedra? è la cattedra di matematica di Padova a questa cattedra c'erano anche altri concorrenti uno di questi concorrenti e maglie le incolse era Giordano Bruno Giordano Bruno che voleva vincere la stessa cattedra all'epoca il concorso significava andare di persona andare a fare diciamo così una lezione all'università Giordano Bruno rientra dall'Inghilterra e dalla Germania dove aveva passato tanti anni lontano dall'Italia che ovviamente lo teneva d'occhio per i libri che aveva già scritto rientra a Padova nella speranza di vincere questa cattedra e in realtà dopo qualche settimana viene arrestato e non uscirà più dalla galera prima starà a Padova poi sarà trasferito a Roma e come tutti sapete morirà nel 1600 del rogo a Campo dei Fiori la cattedra che Giordano Bruno voleva la vince Galileo non c'è nessun dubbio che Galileo fosse meglio di Giordano Bruno come matematico intendiamoci però Galileo va là per qualche anno studia ovviamente cose che sono legate anche a ciò che trova intorno a sé in particolare tutte le attività che poi ritorneranno nei suoi libri in particolare gli ultimi due grandi libri della sua vita cioè le attività che girano intorno all'arsenale di Venezia Galileo è una persona estremamente curiosa quindi gli interessano tutte le cose pratiche ci sono bellissime pagine nei suoi libri che raccontano le attività appunto che l'arsenale di Venezia metteva in opera ma il vero cambiamento quello che cambia la sua carriera la sua vita e soprattutto la storia della scienza è il fatto che in una fiera paesana al mercato diciamo ad un certo punto nel 1609 e infatti qualche anno fa tre anni fa si sono celebrati i 400 anni di anniversario di questa data fatidica diceva Padova qualcuno porta dai paesi bassi un cannocchiale questi cannocchiali venivano venduti sul mercato per motivi così di divertimento uno li comprava e cosa si può fare con un cannocchiale guardare nella finestra del vicino andare a vedere spiare fare i guardoni e invece Galileo subito capisce che questo strumento ha un'enorme potenzialità decide di fingere di averlo inventato lui e questo già dice qualche cosa sull'uomo e ovviamente Galileo era un grande scienziato italiano tutte e tre le parole sono importanti compreso l'ultima quindi decide di dire questa cosa l'ho inventato va dal doge di Venezia e gliela vende come una sua invenzione dicendo guardate che questa invenzione può essere utilissima perché a parte guardare nelle camere dei vicini la cosa più importante è che potete guardare per esempio lontano nel mare e accorgervi molto prima di quanto vi accorgereste a occhio nudo del fatto che stanno arrivando delle navi ancora meglio se salite sul campanile di piazza San Marco andate più in alto vedrete più lontano e quindi potrete vedere ancora prima le navi neviche che stanno arrivando e il doge dice beh questa è un'ottima cosa Galileo riceve dei grandi premi gli viene raddoppiato lo stipendio pensate che passa da 500 a 1000 scudi e a vita tra l'altro quindi riceve quello che si potrebbe chiamare un vitalizio e felice per qualche giorno fino a quando qualcuno va dal doge a dirgli guardi che insomma Galileo gliel'ha venduto e ormai la frittata è fatta però se lo poteva comprare al mercato per due soldi questo strumento Galileo è scoperto il doge sospende il pagamento dello stipendio dice ah vabbè ti ho aumentato lo stipendio e poiché sono un signore te lo pagherò ma non adesso e per un bel po' e Galileo però che fa? ecco questa è la genialità dell'uomo invece di guardare appunto intorno a sé in città o sul mare punta il canocchiale verso il cielo non è l'unico a farlo quell'anno c'è anche in Inghilterra un tale che si chiama Heriot che per primo incomincerà a disegnare la luna ma di nuovo Galileo lo fa meglio e quindi anche se non ha proprio la priorità diciamo così temporale in realtà è colui che riesce a sfruttare meglio questa invenzione e che cosa fa? cosa vede diciamo così con questo cannocchiale? veramente gli si aprono di fronte orizzonti che nessuno aveva mai visto poverino alla fine della sua vita quando sarà ormai agli arresti domiciliari ad Arcetri scriverà una lettera molto toccante a un amico e dirà il tuo caro Galileo è diventato ormai da un mese completamente cieco io dice che vedevo in realtà più lontano di quanto avesse mai visto nessun uomo adesso ho la vista ristretta al mio solo essere interno e questo naturalmente è la tragedia ma sarà molti anni dopo naturalmente verso la fine della sua vita nel 1642 cosa vede dicevo Galileo? vede anzitutto la luna che è la cosa più ovvia da guardare e scopre che la luna è fatta come la terra ha delle valli ha dei monti alla fine in seguito diciamo così quando ormai sarà diventato uno scienziato più maturo darà una dimostrazione che non richiede nemmeno di guardare col cannocchiale la luna per accorgersi che è fatta come la terra e la dimostrazione è banale lui dice in seguito appunto non in quell'anno lui dice beh se noi guardiamo la luna vediamo che risplende nello stesso modo in cui risplende un muro e non nello stesso modo in cui risplende uno specchio e allora cosa vuol dire questo? che lo specchio è una superficie riflettente perfettamente piana o perlomeno in quel caso sarebbe una superficie sferica ma il muro in che modo riflette? se noi andiamo vicino al muro ci accorgiamo che il muro è fatto di mattoni i mattoni sono tutti imperfetti hanno moltissime facce che sono rivolte in tutte le direzioni e allora il motivo dice Galileo per cui noi vediamo la luna bianca è proprio questo perché ci sono montagne e valli che riflettono la luce del sole in maniera diversa e danno lo stesso effetto di un muro quando il sole brilla su di esso la scoperta che la luna ha valli e monti è naturalmente qualcosa che va contro la filosofia dell'epoca si pensava secondo la filosofia aristotelica che la terra fosse imperfetta ma tutto ciò che stava in cielo a partire appunto dalla luna fosse invece perfetto perché stava per l'appunto l'empirio e invece dire che la luna è fatta come la terra va contro quest'idea di perfezione dei corpi celesti Galileo va avanti alla fine del 1609 continua a guardare la luna e agli inizi del 1610 scrive una lettera a un amico dicendogli in queste sere nelle ultime sere quindi abbiamo praticamente la registrazione del giorno stesso in cui lui ha fatto queste visioni diciamo queste osservazioni dicevo agli inizi del 1610 scopre che intorno a Giove ci sono dei puntini luminosi la prima volta lui li vede crede che siano delle stelle poi ritorna dopo qualche giorno perché naturalmente ha un cannocchiale che è estremamente rudimentale con pochissima capacità di ampliamento della visione quando ricomincia a vedere di nuovo questi puntini i puntini si sono mossi e comincia a un certo punto ne vede tre poi ne vede quattro poi si vede che questi puntini si spostano incomincia a guardare tutte le sere questi puntini e finché capisce che cosa sta succedendo ha scoperto che Giove ha dei satelliti e questi satelliti sono almeno quattro i quattro che lui vede e che lui chiama satelliti medicei perché sta facendo naturalmente domanda per andare a prendere una cattedra migliore di quella che ha a Padova vuole spostarsi a Firenze e che cosa c'è di meglio che intitolare ai medici i satelliti che lui ha trovato ma questi satelliti sono estremamente problematici perché girano intorno a Giove e questi sono la dimostrazione la prima dimostrazione che il sistema tolemaico che dice che tutti i corpi celesti ruotano intorno alla Terra è falso noi non ci accorgiamo oggi anche perché crediamo che bisogna in realtà dare un modello di cosa succede chi è che si muove intorno al Sole eccetera già l'osservazione dei satelliti mi dice in realtà è una confutazione del sistema tolemaico c'è qualche cosa che gira intorno ad un corpo che non è la Terra e naturalmente questo incomincia veramente a dar fastidio perché non soltanto la Luna non è un corpo perfetto ma Giove ha i suoi satelliti e poi naturalmente lui continua le sue osservazioni vede Venere Venere è un pianeta interno e quindi se effettivamente girasse intorno al Sole come la Terra dalla Terra noi dovremmo vedere Venere a seconda del fatto che stia dietro o davanti del Sole avere delle fasi analoghe a quelle della Luna in tutta l'antichità questo argomento era già noto anche ad Aristotele però uno guarda Venere e le fasi non le vede lui guarda Venere Galileo col cannocchiale e si accorge che il motivo per cui non si vedevano le fasi è perché era troppo lontano ma quando lo si guarda con un ingrandimento sufficiente anche solo l'ingrandimento del suo cannocchiale le fasi si vedono e quindi Venere ad un certo punto è Venere nuovo come si potrebbe dire ad un altro punto è Venere pieno e tra Venere nuovo e Venere pieno ci sono falci di Venere e questo di nuovo è una conferma praticamente del fatto che Venere sta girando intorno al sole e magari il sole gira intorno alla terra infatti Tico Brahe cercherà di salvare il salvabile però in ogni caso Venere non sta girando intorno alla terra bensì attorno al sole dopo un po' di tempo punta il cannocchiale su Saturno lì non capisce bene cosa succede perché effettivamente gli ingrandimenti sono troppo pochi sono 20 ingrandimenti ma qualche decennio dopo poi in realtà Huygens che avrà un cannocchiale un po' più grande di 80 ingrandimenti capirà che cosa aveva visto Galileo Galileo crede di vedere un pianeta trigemino come lo chiama lui un pianeta fatto di tre parti come una specie di embrione e invece quelle tre parti sono semplicemente le proiezioni degli anelli di Saturno quindi oggi diremmo Galileo vede per la prima volta quelli che in seguito capiranno essere gli anelli di Saturno beh l'astronomia è completamente cambiata non è finita perché naturalmente lui punta il cannocchiale sul sole si accorge che il sole ha delle macchie quindi anche il sole non è un corpo puro diciamo così e poi punta c'è una bellissima pagina che non abbiamo il tempo di leggere non punta il cannocchiale semplicemente su quella macchia lattiginosa che è la via Lattea e sulla quale si discuteva anche lì da secoli per capire che cos'era questa via Lattea e quando punta il cannocchiale si accorge che quelle sono semplicemente stelle la via Lattea è una galassia ecco che è cambiata completamente la visione del mondo siamo soltanto praticamente nel 1612 nel giro di due o tre anni un cannocchiale cioè un giocattolo che la gente usava per giocare cambia completamente la visione del mondo che l'uomo ha e cambia anche ovviamente la posizione del mondo perché è vero che Copernico in precedenza Giordano Bruno avevano già difeso il sistema copernicano ma qui ci sono delle prove molto concrete naturalmente incominciano i guai per Galileo nelle chiese si comincia a dire ah 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 c'è scritto nella Bibbia che Galileo non deve guardare in cielo uno dice come mai beh è perché c'è un prete qui a Firenze qui vicino a Firenze che sale sul pulpito nel 1612 e dice ma andate a leggere la Bibbia c'è scritto nella Bibbia che quando Gesù ascese al cielo tutti guardarono naturalmente quello era un altro fenomeno astronomico che però era precursore dei tempi le rampe di lancio chi è andato a Gerusalemme scopre che Gerusalemme è piena di rampe di lancio perché non soltanto Gesù è asceso al cielo ma anche Maometto se voi andate alla chiesa dell'ascensione c'è la pietra da cui Gesù è partito sulla verticale Gerusalemme come quella del cono che dicevamo prima ma poco qualche centinaia di metri più in là dove c'è la moschea della roccia c'è un'altra rampa di lancio stavolta Maometto naturalmente i cristiani dicono ma crederete a quelle robe lì vabbè però ne avete di quelle simili anche la Madonna sembra questo si è scoperto più recentemente l'assunzione nel 1950 e quindi effettivamente è un mondo strano ma dicevo nel racconto dell'assunzione dei Vangeli tutti guardano questo corpo celeste che va su sulla verticale di Gerusalemme a un certo punto scompare e tutti rimangono così e arriva un angelo dal cielo dice questo frate che legge la Bibbia legge i Vangeli arriva un angelo dal cielo e l'angelo dice che fate Galilei perché guardate il cielo e dice c'è scritto lì che fa Galilei perché guarda il cielo vedete che argomenti che potevano portare coloro che in realtà andavano contro Galileo oggi fa ridere questa cosa ma all'epoca le cose non facevano ridere e quindi il 1616 pochissimi anni dopo che è uscito il Siderius Nuntius l'annunziatore o il messaggero celeste che porta queste notizie che è il titolo del grande libro di Galileo che è praticamente soltanto un canovaccio di ciò che succedeva giorno per giorno in qualche mese di osservazioni e Galileo finisce perlomeno al santo ufficio non è proprio un processo gli viene intimato di non insegnare l'astronomia copernicana lui sta zitto ormai è ritornato nel 1610 a Firenze siamo nell'ultima fase diciamo così la fase terminale ma che durerà ancora 30 anni naturalmente della sua vita dal 1616 in avanti sta zitto perché così gli è stato intimato nel 23 scrive questo libro è vero che se la prende con un gesuita ma perché aveva queste idee bislacche di credere che le comete fossero i corpi celesti aveva tutte le ragioni per arrabbiarsi e però ad un certo punto il papa muore e sale al soglio pontificio un cardinale Bafferini che lui conosceva bene che era un suo amico che l'aveva difeso tra l'altro nel 1616 Galileo si sente ormai finalmente sicuro dice in Vaticano c'è un mio amico che mi proteggerà e quindi nel 1632 pubblica il suo capolavoro il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo facendo tanti errori errori non di matematica non di fisica ma errori diciamo così di diplomazia scrive questo libro in volgare e questo sarà una delle grandi accuse che gli vengono fatte dice tu potevi scriverlo in latino nessuno lo capiva e non dai fastidio a nessuno invece l'hai scritto in italiano adesso tutti si sono messi a leggerlo e tutti cominciano a chiedersi ma sarà vero il sistema copernicano o sarà vero il sistema tolemaico e il sistema tolemaico naturalmente è quello che la Chiesa continua a proporre come modello anche teologico e naturalmente le cose non vanno bene ne fa tanti altri di errori perché il Papa gli aveva detto vabbè scrivi pure un libro però insomma fai capire le ragioni dell'uno e dell'altro e lui dice sì sì faccio un dialogo infatti sopra i due massimi sistemi del mondo che sono quelli che ho detto già nel titolo lo sistema tolemaico e il sistema copernicano però il sistema tolemaico lo fa difendere da uno che si chiama Simplicio ora insomma è vero che c'era stato un filosofo nell'antichità che si chiamava Simplicio ma fra tutti è andato a prendere proprio quello a fargli fare la figura del fesso quindi ogni volta che parla sto Simplicio viene avanti cretino è la stessa cosa e invece quando parla quell'altro che difende diciamo così il sistema copernicano si capisce benissimo da che parte sta e infatti il libro ad un certo punto va sotto la censura perché doveva ricevere l'imprimatur e gli viene richiesto e dice guarda che qui le cose non funzionano però tu sai che il Papa appunto quando era cardinale aveva proposto una dottrina quella che poi Galileo chiamerà l'angelica dottrina che diceva certo è possibile che le cose che voi scienziati spiegate debbano andare in un certo modo ma voi dovete accettare il fatto che se Dio è onnipotente le cose avrebbe potuto farle in un altro modo e che quindi quello che voi dite è semplicemente qualche cosa che non è necessario Galileo insomma non so quanto fosse convinto da questa spiegazione di Urbano Ottavo poiché deve metterla nel libro la mette e la mette dove? Nella penultima pagina fatta dire da semplicio e tutti ridono alla fine quando lui la dice e naturalmente quando il Papa vede questo libro si infuria dice Galileo ha fatto il passo più lungo della gamba forse da Toscano avrà usato espressioni un pochettino più colorite perché era Toscano pure il Papa e quindi Galileo ormai è finito nei guai viene arrestato si chiede tra l'altro al Gran Duca di Toscana in realtà di fare l'estradizione oggi la chiameremmo così poi Galileo andrà volontariamente a Roma viene arrestato viene processato e alla fine come tutti sapete finisce molto malamente a 70 anni e di fronte ai cardinali inquisitori questa sera nell'intervista sentiremo una trascrizione in volgare diciamo così nella lingua attuale delle parole terribili che ha dovuto pronunciare in pratica rimangiandosi quelle che erano le sue credenze e accettando addirittura di denunciare di promettere diciamo così di denunciare coloro che lui avesse sentito difendere il sistema copernicano però si salva la vita Galileo non è Giordano Bruno è un'altra persona molto più grande come scienziato forse un po' più codardo come uomo era un uomo come ho detto parecchio difficile lo si è capito forse da quelle poche parole che ho detto sul saggiatore era un uomo anche avanti nei tempi quando andò a Padova si trovò una compagna e fece pensate siamo prima del 1610 siamo verso il 1600 fece un dico oggi stiamo discutendo in Italia se è possibile fare questi dico e lui 400 anni fa li fece lo fece con la sua compagna sapeva che prima o poi sarebbe tornato a Firenze sperava di trovare i satelliti che poi avrebbe chiamato Medicei e gli disse se noi avremo dei figli una scrittura privata senza sposarla se noi avremo dei figli quando io vado a Firenze questi te li lascio abbi pazienza ti darò una pensione però io me ne vado perché devo seguire la mia carriera e così succede quando nel 1610 riceve la cattedra di matematico Gran Ducale se ne va i figli rimangono là aveva un figlio e due figlie una di queste figlie lo odierà per tutta la vita tutte e due si faranno suore perché lui alla fine le metterà prima di partire in un convento benché avessero soltanto 12-13 anni quindi addirittura l'età precedente a quella minima dei 14 anni per poter entrare in un collegio in un convento una praticamente appunto non so se si può dire di una suora che odiava il padre comunque certo non aveva un bel rapporto l'altra invece suor Celeste gli starà vicino fino alla fine c'è addirittura un bel romanzo che raccontano i loro rapporti attraverso le lettere che loro due si scrissero comunque dicevo era un uomo difficile e forse appunto non propriamente coraggioso come anche dimostra tra l'altro il fatto che l'invenzione del cannocchiale e non fu l'unica perché anche il compasso ebbe delle traversie un po' analoghe in cui lui scrisse un libro contro uno che gli aveva rubato a lui Galileo l'invenzione del compasso dimenticandosi di dire che lui però l'aveva preso da un altro e quindi un intero libro contro il plagio nei suoi confronti ma nessuna parola sul plagio nei confronti di altri però siamo nel 1633 Galileo ritorna dopo una breve permanenza credo a Firenze o a Bologna non ricordo più ritorna in una sua villa ad Arcetri che tra l'altro in occasione del centenario fu aperta quindi si poteva visitare a pochi chilometri da Firenze ma è lì agli arresti domiciliari e agli arresti domiciliari scrive l'ultima sua grande opera i discorsi sopra due nuove scienze cioè sono discorsi in realtà su quello che oggi chiameremmo la scienza dei materiali da una parte e la meccanica un libro molto difficile in parte perché è un po' raffazzonato ci sono lavori di 40 anni prima ci sono questi lavori che ho citato prima sul piano inclinati sul pendolo e così via metà del libro è scritto in latino l'altra metà è scritta in italiano quindi complicato però è il vero libro di Galileo perché l'altro era un libro divulgativo in realtà i dialoghi sono una bellissima opera letteraria però parlano del sistema copernicano che non era una sua invenzione sono un bel libro tra l'altro Calvino Italo disse una volta che Galileo è stato il più grande scrittore italiano punto ora naturalmente i letterati insorsero ma come dice c'è Dante anche sempre lì della stessa regione e Calvino disse vabbè volevo dire in prosa ma anche in prosa da Manzoni a Machiavelli solo per limitarsi a quelli con il cognome che cominciano con la ma ce ne sono parecchi altri che possono ambire eppure Calvino sosteneva che Galileo era il più grande scrittore italiano e chi legge il dialogo e beh in qualche modo forse conviene stasera di nuovo nell'intervista alcune alcuni brani ovviamente soltanto perché l'intervista è corta però si sentirà la lingua di Galileo invece i discorsi non sono tutt'altra roba come dicevano un libro molto difficile e alla fine però gli ultimi otto anni della sua vita Galileo li dedica a queste cose muore nel 1642 lo stesso anno in cui nasce in Inghilterra Newton cioè una specie di passaggio di testimone ideale e queste sono brevemente forse non tanto brevemente certamente non in mezz'ora come mi era stato richiesto ma in meno di un'ora come mi era anche stato richiesto quindi sempre all'interno del minimo e del massimo richiesto queste sono più o meno le grandi linee del lavoro di Galileo come ho detto le ho dette con parole mie stasera forse la cosa potrebbe essere interessante per coloro che avranno voglia di venire a sentire l'intervista perché è un'intervista impossibile sulla falsa riga di quelle che già Luciano di Samosata fece nell'antichità ma che poi negli anni 70 divennero quasi moderne di moda in questo senso e che poi qualche anno fa sono state rivitalizzate quindi chiesero a varie persone di fare interviste a persone del passato e io ho fatto questa qui a Galileo però facendola in maniera un po' diversa da come la intendevano o la intesero alcuni letterati perché certo che se io mi invento un'intervista con uno e gli faccio dire cosa voglio io e vabbè certo quello è una cosa poco interessante l'interessante secondo me è intervistare un personaggio del passato semplicemente prendendo cose che lui ha detto e costruendo le domande in modo da fargli da dargli diciamo così il là per poter rispondere su queste cose quindi questa intervista sarà semplicemente un modo diciamo così un po' più teatrale di presentare alcune delle pagine di Galileo sentendo le sue parole dalla voce per l'appunto di un attore quindi vi do appuntamento a non so bene quando ma prima che arrivi la mezzanotte diciamo grazie 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 grazie